L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo coglie un obiettivo prestigioso e internazionale, vincitore di Stream, un progetto interregionale Italia-Croazia da 9 milioni di euro finanziato dall'Europa, che migliorerà le capacità di monitoraggio e gestione dei territori adriatici nel reagire prontamente alle catastrofi alluvionali. Si svilupperanno quindi all'interno di questo progetto i vari 20 partner, si svilupperanno 9 progetti pilota, di questi 9 progetti pilota uno lo svilupperemo noi come azienda per il diritto allo studio per il territorio dell'Aquila e quindi di Teramo e quindi questo è il nostro contributo all'interno del progetto complessivo. Il nostro tema sarà la depurazione, cioè come intervenire nei depuratori in fase emergenziale in caso di alluvioni e come mitigare il tasso di inquinamento di questi depuratori. Grande soddisfazione per il successo dell'Azu di Teramo da parte del governatore Marsilio, che ha voluto presenziare la presentazione ufficiale del progetto. Progetto importante anche di cooperazione europea, con il quale cerchiamo di sviluppare metodi di controllo, monitoraggio del territorio, messa in sicurezza rispetto alle alluvioni, che è un tema sul quale questo territorio è particolarmente esposto e sensibile. Stream non porterà solo Lustro all'Azu di Teramo e all'Abruzzo tutto, ma creerà opportunità lavorative per studenti universitari attraverso borse di studio dedicate. Lei inizia il suo mandato con questo progetto importantissimo. Per noi è stata una bellissima cosa presentare e poter avviare alla realizzazione questo bellissimo progetto, attualissimo. Questo progetto Stream è rivolto praticamente alle calamità naturali, a quelle che sono i danni causati sul territorio dalle alluvioni e quant'altro. È un progetto importantissimo perché ci sono partner internazionali, tutto il bacino che si affaccia sull'Adriatico e questo progetto ha una ricaduta sui nostri giovani, sul nostro territorio, che vuole portare delle borse di lavoro ai giovani, che per noi è un aspetto fondamentale e importante, per creare nuove conoscenze, a far sì che i giovani hanno la disponibilità di uno studio che possano interfacciarsi e confrontarsi con gli altri paesi. Grazie.